Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 code tra Firenze Sud e in Cisareggello, verso Roma, e rallentamenti tra Calenzano e Aglio, in direzione Bologna. Spostandoci sulla FIPILI, svincolo di Livorno-Aurelia chiuso in entrata, in direzione Livorno e in uscita, provenendo da Firenze. Sulla strada regionale 429, variante di Certaldo, divieto di transito per la chiusura in entrambi i sensi di marcia, tra i chilometri 12 e 50 e 17 e 650 circa, nei comuni di San Gimignano, Gambassi Terme e Certaldo, fino al 12 agosto. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, si ricorda che a Firenze sono iniziati i primi cantieri della linea tramviaria Fortezza-San Marco, info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!